I temi per i quali mi batterò in Parlamento sono un po' quelli legati alla mia provenienza. Io sono ancora oggi un amministratore locale, sono consigliera comunale nel comune dove sono stata sindaco. Io mi occupo moltissimo di enti locali, mi occupo di territorio, di istruzione, di lavori pubblici, di ambiente, perché è tutto quello che si riunisce su un territorio e aumenta la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Ho un grande obiettivo che è quello di evitare la desertificazione dei territori e di riportare in auge un progetto. C'è la periferia della città ma c'è anche la periferia dei territori e delle montagne e questo è quello che deve essere assolutamente tenuto in conto.